Manca ancora più di un mese alla scadenza dei termini per le candidature. In vista della scadenza elettorale del 12 giugno e ad Agropoli tutto può ancora accadere. Le uniche certezze al momento sono rappresentate dai tre candidati in pectore dell'opposizione all'attuale maggioranza. Agostino Abate, candidato ufficiale di Fratelli d'Italia, Raffaele Pesce del movimento civico Liberi e Forti e l'ex presidente del Consiglio Comunale, Massimo Laporta, alla guida di uno schieramento civico che attorno alla lista Agropoli Oltre si è proposto di aggregare le diverse componenti che hanno preso le distanze in corsa dall'attuale sindaco Adamo Coppola. Ma nelle ultime ore è proprio sul sindaco uscente che si sono aperti i scenari fino a qualche giorno fa impensabile. Saltate le primarie trappola proposte qualche settimana fa da Franco Alfieri e dal PSI, pare che sia stato proprio la lista socialista a chiedere la testa del sindaco per poter garantire la sua permanenza nella coalizione di centrosinistra. Questa richiesta ha spaccato il fronte interno al Partito Democratico con un consistente gruppo di consiglieri pronto a rinunciare al proprio candidato sindaco per convergere sull'assessore al bilancio Roberto Mutalipassi. Se venisse confermato questo scenario il sindaco uscente Coppola andrebbe da solo con due liste civiche lasciando a Mutalipassi la guida del centrosinistra con PD, PSI e si ventila un rientro di Italia Viva. Proprio il partito di Renzi sembra l'ago della bilancia con l'ex vice sindaco Elvira Serra pronta a fare un passo indietro per rientrare in coalizione con l'una o con l'altra fronda interna. Sullo sfondo ancora incerta la posizione di Forza Italia e della Lega alle prese con la scelta di correre in solitaria candidando Emilio Malandrino o Mario Capo o in appoggio di una delle componenti civiche in campo. Più improbabile ma non da escludersi l'ipotesi di una ricostituita convergenza di coalizione attorno al candidato della destra Agostino Abate. Intanto restano anche in piedi le candidature di Gisella Botticchio e di Giovanni Basile, entrambi vicini alla Lega ma al lavoro su autonomi progetti civici. Questo il bollettino di oggi, mercoledì 6 aprile, ma ogni notte è buona perché gli scenari possano essere ancora una volta stravolti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.